Non solo questo nostro dibattito, questo nostro incontro è in streaming, ma naturalmente il materiale che discuteremo, le presentazioni, i vostri interventi, saranno poi disponibili dopo. Naturalmente è un principio che vogliamo fare proprio con questa riunione, ma in realtà cerchiamo poi di estendere a ogni ambito del Partito Democratico, di condivisione all'interno della comunità, dell'organizzazione del Partito, di tutti i suoi centri di discussione, in particolare di quello che dovrebbe avere una sua importanza come quello di oggi e che coinvolge tutti i responsabili, o perlomeno una buona parte, dei responsabili economici e lavoro territoriali, provinciali e regionali del Partito Democratico. Io vorrei innanzitutto cominciare con voi con un ringraziamento non cerimoniale, perché so benissimo che in un momento come questo siete venuti qua tutti a vostre spese dai luoghi più disparati d'Italia, dalle Alpi, non alle Ande, ma alla punta del Mediterraneo. Penso che abbiamo non molti esponenti delle isole tra di noi, ma siamo sicuri che grazie alla tecnologia ci potranno almeno ascoltare, essere partecipi ricettori di questo dibattito. Sono invitati a questo incontro naturalmente i nostri gruppi parlamentari, in particolare i membri delle commissioni economiche, membri del Governo. Purtroppo l'orario è abbastanza infelice, ma dovendo scegliere tra avere la vostra presenza, cioè cercare un orario che fosse comodo per voi, comodo per loro, abbiamo optato per la prima opzione e quindi questo confligge con i lavori parlamentari. Io vorrei che noi oggi cercassimo di affrontare tre domande. Sono tre domande che non sono tutte le domande che ci possiamo porre, ma sono le tre domande fondamentali, o forse centrali, se non fondamentali, che dovremmo farci adesso. Quindi vorrei cominciare chiedendoci, cercando di chiarire almeno, qual è il fine di questa riunione, che cosa credo che dobbiamo far emergere dalla discussione che seguirà questa riunione e infine, naturalmente, dato quello che vogliamo far emergere, come questo si mette in relazione al messaggio, al messaggio politico che il Partito Democratico vuole dare al Paese, in particolare nei mesi che verranno. Per fare questo io mi prenderò una quarta d'ora del vostro tempo in questa introduzione, prima di passare la mano alle relazioni, diciamo, i caratteri più tecnici, che sono relazioni pensate per approfondire il tema e approfondire almeno due dei tre temi centrali di governo e favorire poi quindi la discussione. Purtroppo vi annuncio che Riccardo Salomone non è in grado di essere qui con noi per questioni familiari a fare la sua relazione sulla riforma della pubblica amministrazione, cercherò di sostituire in maniera molto manchevole in parte la qualità tecnica che lui avrebbe portato a questo dibattito, ma comunque faremo fronte alla migliore dei modi. Vogliamo condividere non solo il punto di vista, non solo la, come posso dire, la prospettiva generale di governo, ma in generale quello che è il dibattito che dovrebbe caratterizzare o dovrebbe permeare il Partito Democratico in questo momento. Per farlo noi ci dotiamo di una serie di strumenti, e quegli strumenti sono di ordine ordinario, come la riunione di oggi. La riunione di oggi è la prima, dopo un certo periodo di stallo, che ha, ma la prima, noi speriamo, anzi siamo certi, di una lunga serie di incontri periodici in cui questa condivisione della piattaforma politica del Partito Democratico, della piattaforma di politica economica del Partito Democratico verrà continuamente condivisa. Abbiamo già, a prescindere da questi interventi, diciamo, occasionali, straordinari come l'incontro di oggi, avrete già notato, o forse non l'avete notato, porto la vostra attenzione su questo, che il Partito Democratico, anche attraverso il suo sito, vuole essere veramente un aggregatore di informazioni e di dibattito. Lo vuole essere non solo in maniera tradizionale, attraverso le interviste, la segna stampa, tutte quelle cose che voi osservate, ma anche attraverso una serie di rubriche che noi cominciamo a offrire alla vostra disminibilità e alla vostra attenzione. La prima delle quali è questa rubrica di approfondisci, in cui noi ogni giorno, come Partito Democratico, mettiamo all'attenzione, offriamo all'attenzione vostra e naturalmente del Paese, pubblicamente accessibile, tutti quelli che sono i documenti, i dati, i riferimenti, su le questioni, o gli accadimenti, gli eventi economici più importanti che hanno coinvolto. Sono dai rapporti più importanti a informazioni e dati che magari passano sotto l'osservazione generale. Lo facciamo perché, visto l'ambizione di trasformazione o di cambiamento della politica economica che abbiamo inaugurato ora e di cui ci siamo fatti carico col governo del Paese, dobbiamo essere conseguenti. E conseguenti vuol dire conseguenti nella capacità di approfondire e di portare una qualità nel dibattito pubblico che fino ad oggi abbiamo fatto fatica a mettere in campo. Non dico tanto noi come Partito Democratico, ma in generale il dibattito pubblico di questo Paese in questo momento sta collassando a livelli minimali e a noi sta l'onere, non so se l'onore, ma certamente l'onere, di cercare di tenerlo il più possibile alto. Tenerlo alto consapevoli di quello che è il vincolo, o se volete il punto, la considerazione fondamentale è il nostro agire. Noi non siamo un partito politico che offre solamente una proposta politica, noi siamo un partito politico che in questo momento ha il suo segretario nazionale che è Presidente del Consiglio. Il che vuol dire che nell'autunno che ci si avvicinerà, così partiamo dal fine di questa riunione, nell'autunno che abbiamo di fronte, il Paese guarderà a noi e difficilmente distinguerà o farà molta fatica a distinguere tra quella che è la proposta del Partito Democratico e la proposta di governo. I due piani saranno necessariamente sovrapposti e i cittadini ci chiederanno conto delle scelte di governo. Perché appunto? Perché il Partito Democratico esprime il Presidente del Consiglio, esprime importanti ministri, ma soprattutto è il cuore pulsante, o se volete il propulsore di questo governo. Noi dobbiamo mai scordare questa considerazione e perché non scordandola poi, questa considerazione, questo fatto, caratterizza e plasma di sé tutto il resto della nostra azione politica. Quindi io vorrei con voi cercare di condividere quella che è la prospettiva, se vogliamo generale, di partenza dell'azione politica, della proposta politica che facciamo governo, ma soprattutto che spingiamo nel Paese oggi. e vorrei che la condividessimo, non perché ci dobbiamo limitare a quella, ma perché non possiamo prescindere da questa, non possiamo prescindere da quella che è la prospettiva generale della nostra azione di governo. Il perno di questa prospettiva sono gli oramai tanto vituperati 80 euro, il provvedimento degli 80 euro. Io su questo vorrei, siccome osservo come tanti di voi discussioni e diciamo considerazioni al limite della chiarezza, anche tra di noi dobbiamo essere almeno netti su alcune cose. Il provvedimento degli 80 euro, o se volete, per meglio dire, il provvedimento che conferisce 1000 euro di riduzione delle tasse a 10 milioni di lavoratori italiani, che costa appunto una riduzione fiscale sul lavoro di 10 miliardi su base permanente, è il primo passo, sì certo, il primo passo, non il passo finale, ma della fondamentale ridistribuzione del carico fiscale a favore del lavoro di cui il Partito Democratico si fa a carico. È un passaggio fondamentale ed è un perno su cui si regge tutto il resto. Perché? Perché quel perno, quella conferimento fiscale, quella riduzione fiscale, consegna a tutti noi un impegno, un impegno a essere conseguenti su tutti gli altri aspetti della politica economica. Perché dico che è il primo passo? Perché l'obiettivo non è mantenere questo provvedimento, questo è lo strumento. L'obiettivo è fare in modo che lo spread fiscale, o meglio dire, la differenza fiscale tra questo paese e i paesi europei, ad alto stato sociale, ad alto valore dei servizi pubblici ai cittadini, in quei paesi noi osserviamo un trattamento fiscale estremamente diverso delle imprese e dei lavoratori. Quanto vuol dire estremamente diverso? Vuol dire per due punti di PIL diverso. Noi siamo almeno, almeno, noi tassiamo in più i lavoratori di imprese rispetto ai nostri colleghi inglesi, i francesi, i tedeschi, per i francesi e i tedeschi in realtà è molto di più, di almeno due punti di PIL, che sono 30 miliardi dei prezzi correnti. Quindi voi capite, noi dobbiamo esattamente comunicare al paese che se 30 miliardi è la tassazione in più che noi chiediamo ai lavoratori di imprese in questo paese, rispetto a paesi ad alto stato sociale, ad alta qualità dei servizi, o perlomeno a migliore, più alta qualità dei servizi rispetto a noi, come la Francia e la Germania, dobbiamo spiegare perché questo spread esiste. O per meglio dire, noi abbiamo fatto di più. Ci siamo impegnati a prendere quella differenza di 30 miliardi e cominciare a ridurla. I 10 miliardi sono la prima riduzione. Naturalmente, il paese, lo sapete meglio di me, è stanco, ha tratti disperato, ci sono pezzi che emergono e pezzi che sommergono. E in questo momento c'è la tentazione di dire, va bene, questo provvedimento è nulla, è un inutile spreco di risorse pubbliche. E allora dobbiamo mettere in prospettiva che cosa vuol dire 10 miliardi di riduzione fiscale sui lavoratori che guadagnano meno di 26 mila euro l'ordine. Vuol dire questo, vuol dire che noi abbiamo messo in campo un provvedimento fiscale che riduce le tasse per la metà, o per meglio dire, più della metà, dei lavoratori dipendenti italiani. Più della metà dei lavoratori dipendenti italiani. A questi lavoratori italiani, i lavoratori italiani che guadagnano, scusate, non lavoratori, i contribuenti italiani, dipendenti, lavoratori autonomi, pensionati, che guadagnano o hanno un imponibile inferiore ai 26 mila euro l'ordine, versano in ingrpef netta 45 miliardi, grosso modo, circa 45 miliardi di euro. Intervenire riducendo il loro carico fiscale effettivo per 10 miliardi su 45 è una riduzione di quasi un quarto. Ora, onestamente, delle due l'una, ma è veramente difficile dire che questa è una riduzione, è poca cosa, è piccola cosa. È una riduzione gigantesca. E proprio perché è gigantesca, rappresenta anche un impegno molto forte. Un impegno molto forte per noi. L'impegno non è, vedete, solamente nel conferirlo, ma su conferirlo su base permanente. Fare in modo che questa non sia un'operazione di ridistribuzione transitoria, ma sia un'operazione di ridistribuzione che dura nel tempo. Per farlo, noi non abbiamo molte scelte, abbiamo in realtà solamente una. Per fare in modo che effettivamente questa riduzione fiscale al lavoro duri nel tempo, e anzi sia all'inizio di una ridistribuzione più marcata, noi dobbiamo guardare al livello di spesa pubblica corrente. Vedere, guardare quel livello di spesa pubblica corrente. Su questo voi avrete una relazione molto dettagliata e molto precisa di Bordignon dopo quella di Tommaso. Ma prima di arrivare a quella ricchezza di dati che noi condivideremo e sarà oggetto della discussione dei vostri interventi e poi alla fine delle mie conclusioni, io vorrei che noi condividessimo il senso politico. Qui non stiamo facendo alcuna crociata per la distrutturazione dello Stato sociale italiano. Non stiamo facendo nessuna crociata contro la spesa pubblica in quanto tale. Non stiamo facendo nessun tipo di affermazione sullo Stato leggero piuttosto che cose complicate di questo tipo. Noi stiamo ponendo una serie di domande che sono però centrali per il futuro del Partito Democratico e per la sua proposta politica. Le due domande sono queste. Possiamo fare questo intervento di riduzione della spesa pubblica per mantenere nel tempo, anzi per garantire nel tempo, la riduzione fiscale sul lavoro. Possiamo farlo intervenendo su quelle che sono inefficienze, sprechi, funzioni ridondanti della pubblica amministrazione? Cioè siamo in grado di fare questo intervento senza toccare, senza toccare nessuno di quegli aspetti della spesa sociale, della spesa pubblica di questo Paese che sono cari alla sinistra italiana. Senza toccare la scuola, l'università, la sanità, senza toccare la spesa per i trasferimenti. Siamo in grado di fare questo. Cioè siamo in grado di finanziare, di dire a questo Paese che la istituzione al lavoro si sostanzia nel fatto che noi siamo in grado di efficientare, cioè di garantire gli stessi servizi o migliori a un costo inferiore rispetto ai servizi pubblici o migliori a costi inferiori. Tutta questa è la sfida di governo. La sfida di governo sulla quale noi ci vedremo impegnati con la legge di bilancio sarà questa. Per farlo noi dobbiamo scegliere. E scegliere è complicato, perché scegliere ha dei costi. Dei costi non tecnici. Se noi guardiamo il totale della spesa pubblica, è forviante, no? Sembra quasi un'operazione banale. Direi, guarda, ci sono al netto degli interessi circa 720 miliardi di spesa pubblica. Nelle V10 è poca roba. È un piccolo intervento. Ma questo è totalmente forviante. Totalmente forviante perché, prescindere dalla struttura della spesa pubblica è l'operazione che noi stiamo facendo. È un'operazione, ripeto, di efficientamento riduzione degli sprechi. In quanto tale, noi vogliamo fare esattamente l'operazione inversa. Cioè, scivolare, entrare nella struttura della spesa pubblica italiana per migliorarla e per cambiarla su base strutturale. Che, per inciso, è l'unica cosa che garantisce che quei risparmi effettivamente si mantengano nel tempo. A differenza di quei che sono stati tagli lineari. Ora, noi osserviamo che ci sono 130 miliardi di consumi intermedi. E almeno 60 miliardi di altre spese correnti varie. Lasciamo da parte tutto quello che noi spendiamo per il reddito dei lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione in tutte le sue articolazioni. Lasciamo da parte tutte le prestazioni sociali in denaro. Quello che vi viene in mente in denità di disoccupazione, pensioni, cassa integrazione, tutto quello. Lasciamo tutto questo da parte. E se anche lasciamo tutto questo da parte, abbiamo circa 200 miliardi, poco di meno, su cui noi abbiamo la possibilità di intervenire. E la domanda politica è tutta lì. Siamo in grado di intervenire su questi 200 miliardi mantenendo il livello di servizi, anzi potenziandolo? Se siamo in grado di fare questo, la battaglia politica è vinta, altrimenti è già finita. Altrimenti ci riduciamo, altrimenti veniamo meno a quella che è la nostra missione storica. Noi pensiamo, pensiamo alla luce del lavoro che viene svolto nelle articolazioni di governo, di quello che è la riflessione che c'è all'interno del Partito Democratico in questo momento, che tutto questo sia tecnicamente possibile, ma sarà, e su questo non vorrei darvi illusioni, politicamente estremamente costoso. Noi ci troveremo con la legge di bilancio, noi tutti, come classe dirigente del Partito Democratico, nelle sue articolazioni nazionali o decentrate locali, a far fronte, a affrontare, a discutere, a dialogare con tantissime sfaccettate, molteplici aree di critica, di critica legittima, di perché chiederemo, se chiedi alle pensioni di cambiare la propria funzione, di cambiare la propria mansione, di cambiare il proprio lavoro, di mutare. Se tu semplicemente sei in grado di intervenire sugli sprechi che avvengono per la spesa di beni e servizi, in modo tale da fare in modo che effettivamente lo stesso bene e lo stesso servizio arrivi alla pubblica amministrazione ma costi di meno, quello che stai facendo è toccando degli interessi precisi, interessi di imprese inefficienti o magari un po' peggio che inefficienti, che fino a ieri o fino ad oggi godevano di questa inefficienza ottenendone una rendita, uno spazio di rendita e uno spazio di profitto. Ecco, la nostra sfida è dire che con la massima chiarezza questi spazi di profitto, questi spazi di rendita possano, anzi debbono, essere corretti. E il fine di tutto questo è sempre uno, ridare al lavoro, restituire al lavoro, senza il quale poi non riusciamo a fare null'altro. perché tutto questo funzioni? Io non ho solamente bisogno di fare con voi un discorso di tipo diciamo generale o anche di mostrarvi dati dettagliati, ho anche bisogno di pensare, di ripensare quella che è la struttura che poi gestisce questa spesa pubblica, con il funzionamento della pubblica amministrazione. se gli 80 euro sono un perno perché generano quell'impegno al cambiamento della spesa pubblica di cui abbiamo detto, quell'impegno per il cambiamento della spesa pubblica si sostanzia attraverso una possibilità di riformare l'operatività e il cambiamento della pubblica amministrazione. Ora, questo, quell'intervento non a caso è un intervento su cui il governo mette così tanta enfasi perché senza di quello diventa molto difficile fare tutto il resto. Diventa anzi praticamente impossibile fare tutto il resto. Quindi, noi ci chiediamo come possiamo cambiare le regole della pubblica amministrazione per migliorare i servizi pubblici. La pubblica amministrazione è necessaria per predisporre la società al cambiamento. La società non ce la fa a cambiare da sola. Quindi abbiamo bisogno di chiederci come riusciamo a mutarla. Quali sono le principali linee di intervento su cui si sostanzierà l'intervento sulla pubblica amministrazione? I cittadini italiani si lamentano di come vengono trattati dalla pubblica amministrazione, del rapporto che hanno con la pubblica amministrazione. Questo rapporto va ribaltato. Va ribaltato e questa è l'ambizione. Ribaltato ridando centralità e ridando soggettività al cittadino di fronte alla pubblica amministrazione. Ora, ci sono alcuni strumenti che facilitano questo. C'è il ripensamento dei processi in chiave digitale, c'è lo sfruttamento di quelle che sono le tecnologie e l'enfasi che noi mettiamo sull'utilizzo del digitale. È finalizzato ancora questo a ribaltare, a ridare centralità al rapporto del cittadino verso la pubblica amministrazione. Ma badate bene, questo è un punto di partenza perché l'altro, il punto di arrivo e la lamentela se vogliamo centrale è c'è la percezione molto chiara che ci viene, che risalta in ogni statistica internazionale, che risalta parlando con i cittadini italiani, che ha a che fare con la inabilità generale e diffusa della pubblica amministrazione di offrire risposte chiare in tempi certi. Chiare non vuol dire positive, non vuol dire negative, vuol dire chiare. vuol dire finirla con i tempi dei forze, dei vediamo, dei ricorsi e cominciare invece quello delle scelte. Vuol dire tecnicamente un'estensione del principio del silenzio assenso per favorire la creazione di aziendali e in generale la creazione di nuovi progetti. Sono strumenti essenziali ma strumenti che vanno declinati esattamente, vanno visti sempre in quella prospettiva che dicevo prima. Cioè poi oltre a cambiamento del processo c'è il cambiamento del lavoro. L'altro ambito di intervento sulla pubblica amministrazione ha a che fare su come noi intendiamo il lavoro e il lavoro in particolare dirigenziale all'interno della pubblica amministrazione. Il cambiamento verso il ruolo unico dei dirigenti. L'affermazione della temporaneità nei ruoli dirigenziali non è solamente non ha nulla non ha nessun fine punitivo a un fine di favorire trasparenza ricambio ricircolo dell'energia nella pubblica amministrazione in cui continuamente noi permettiamo attraverso la diffusione delle informazioni un'affermazione del merito che ad oggi sembra molto difficile da crearsi da affermarsi all'interno della pubblica amministrazione. Questo non solo avrà un impatto sulla spesa ma lo facciamo e sarà un'iniziativa al centro del governo esattamente perché senza questa riorganizzazione senza ridare effettiva centralità conferendo responsabilità nuova ai dirigenti della pubblica amministrazione non siamo in grado di cambiarle. Quindi è un tentativo se vogliamo di ripotenziamento di quella che è la dirigenza della pubblica amministrazione o riresponsabilizzazione per fare in modo che sia artefice del cambiamento o artefice della trasformazione della società. Il lavoro della pubblica amministrazione è una piccola parte come ne sappiamo del mercato del lavoro e l'ultimo pezzo l'ultimo pilastro dell'azione di governo esattamente affronta il mercato del lavoro in suo complesso. Su questo avremo la relazione di Tommaso Nannicini per cui in particolare sulla legge delega che è un pezzo fondamentale del job act senza essere il job act. L'idea del job act è sempre stata un'idea più ampia un'idea di allargare la vista di porsi il problema di come creare il lavoro e capire che per creare il lavoro hai bisogno di una moltiplicità di interventi l'intervento fiscale che abbiamo discusso l'intervento sulla pubblica amministrazione che abbiamo discusso e un intervento sul mercato del lavoro in senso stretto ma riconosciamo per la prima volta che il mercato del lavoro è una sorta di spugna una spugna cioè un mercato in realtà che assorbe le tensioni presenti nella struttura economica della società in maniera molto più efficace rispetto al passato ci sono tre aspetti in particolare su cui il nostro mercato del lavoro è totalmente claudicante e tutti quei tre aspetti sono centrali alla legge delega io mi rendo conto che oggi avrete letto le agenzie venendo qui veniamo accusati di ritardare che la legge delega non vedrà nessun risultato concreto nel prossimo futuro però io qui con voi vorrei condividere l'impegno l'impegno che non è mio l'impegno dei nostri parlamentari e del nostro governo l'impegno dei nostri parlamentari è che la legge delega diventi legge dello Stato entro la fine dell'anno e che in conseguenza di questi decreti attuativi i principali decreti attuativi che coinvolgono ammortizzatori sociali cassa integrazione e indietà di disoccupazione politica attiva per il lavoro che coinvolgono la semplificazione contrattuale l'introduzione del contratto a tutte le crescenti tutte queste cose che tutto questo avvenga nei primi mesi del 2015 questo è il nostro impegno e a questo noi stiamo è un impegno che è stato preso solennemente dai nostri gruppi parlamentari delle commissioni di lavoro di Camera e Senato e a quello noi rimaniamo e il nostro ruolo come partito democratico è assicurarci o per meglio dire essere garanti di questo impegno di fronte al Paese se lo disattenderemo ce ne assumeremo le responsabilità ma fino a quando questo non succederà se questo non succederà noi stiamo agli impegni perché siamo il partito che si è preso alcuni impegni e a quello cerchiamo di stare questo insomma è il fine di questa questo è diciamo il cuore di questa riunione insomma discutere questi tre temi innanzitutto proprio perché questi saranno i tre temi al centro dell'agenda di governo ancora una volta il Paese ci chiederà di rispondere a quella che sarà l'agenda del governo perché noi siamo il partito democratico e noi abbiamo questo ruolo io quello che vi chiedo in questa alla fine delle delle relazioni che verranno è di condividere non solo le vostre esperienze ma anche le difficoltà quelle che avete incontrato che incontrate sul piano locale vi chiedo di farlo per mettere a disposizione di questa di questa comunità che è il partito democratico le cose gli errori o le esperienze positive che negli ultimi tre anni sono state sono state vissute perché è evidente a tutti che dobbiamo cercare di essere un sostegno attivo costruttivo intelligente ma anche critico a quella che è l'azione di governo quando ce n'è bisogno e che per esserlo dobbiamo condividere le nostre pratiche i nostri problemi come comunità e dobbiamo farlo perché altrimenti il progetto politico che è il progetto politico centrale non si realizza il progetto politico è come ridare centralità al lavoro in questo Paese e non c'è alcuna possibilità di farlo se noi non cambiamo fisco pubblica amministrazione e mercato del lavoro probabilmente le tre cose per sé non basteranno ma senza quelle tre cose sicuramente non ce la facciamo forse non sono condizioni sufficienti ma certamente sono condizioni necessarie noi abbiamo una grande responsabilità che è quella di ridare di dare un messaggio molto chiaro al Paese un messaggio è il Paese è sfiduciato verso il ruolo del proprio lavoro in molti casi perché le persone non trovano lavoro non ce l'hanno in altri casi perché quelli che lavorano non sentono che il lavoro sia sufficientemente remunerato allora io cerchiamo di appunto di riuscire a declinare tutte le nostre riflessioni sul tentativo sull'obiettivo di come ridare centralità al lavoro favorendo tutte le condizioni perché effettivamente il lavoro venga creato venga potenziato io a questo punto prima di aprire la discussione do lo spazio alle relazioni Tommaso Danicini comincerà con la relazione sul disegno di legge delega sul lavoro Massimo Bordignon dovrebbe arrivare adesso dall'aeroporto e affronterà il tema appunto della revisione della spesa Massimo Bordignon ha partecipato a uno dei gruppi di lavoro è stato un membro attivo del gruppo di lavoro che ha partecipato al lavoro del commissario Cottarelli naturalmente condivide con noi quelle che sono le sue considerazioni personali il senso di queste relazioni è un senso di condivisione di diciamo degli aspetti tecnici e politici su questi perni centrali delle relazioni di governo e poi la nostra discussione avrà il ruolo avrà il compito di diciamo fare in modo che la tecnica e la politica si tengano insieme io vi prometto che finite le discussioni noi la mia le mie conclusioni che saranno molto più brevi della mia introduzione vi voglio rassicurare non cominceranno più tardi delle 5 e 10 in modo tale che alle 5 e 15 avremo possiamo concludere questa riunione evitare quel fenomeno fastidioso della riunione che si asciuga perché le persone vanno via un po' alla volta e per darci anche tempo di poter condividere in maniera uno a uno o due a due o insomma a gruppi ristretti considerazioni opinioni critiche al di là di quello che è la discussione il dibattito pubblico che abbiamo tra tutti noi a tutti i Grazie.